buongiorno a tutti vi ritrovati qua su Radio Rosso Nera il quindici novembre quindi siamo arrivati anche a metà di questo mese ma purtroppo ancora non alla metà della sosta nazionale che invece appena è iniziata buongiorno a tutti qui da Radio Rosso Nera buongiorno Henry ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti buongiorno anche da parte mia buongiorno a tutti voi oggi ci vediamo un pochino in due tra quello che in realtà è una notizia nell'aria vabbè saremo senza attacco per per la Fiorentina quantomeno col Borussia sicuramente tornerà Olivier Giroud visto che non è squalificato difficilmente tornerà Raffaeleao però dobbiamo preparare i prossimi dieci giorni ad una partita che vedrà impiegato praticamente credo uno dei dei titolarissimi di questo periodo e poi dovranno aiutarlo i vari Ocafori i vari Ciupese i vari Piovic eccetera eccetera perché come scrive Gazzetta dello Sport che oggi ne dicola eh allarme gol Giroud stop di due giornate tornerà con la con l'Atalanta qui Violi ha out anche Leao il francese vice capocannoniere squalificato con Fiorentina Frosinone e Pioli in emergenza eh direi di sì Pioli in emergenza sì anche perché cioè due attaccanti che 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 tirano la carretta alla fine sono fuori sono fuori per due partite di campionato Leao sarà fuori per credo anche lui un paio di partite due o tre partite quindi devo tocca agli altri tocca come dicevi tu a Ocafor a Ciucco Eze tocca a Pulisic prendersi un pochino sulle spalle il peso della squadra quindi tocca loro a me dispiace ma per quanto riguarda Jovic io ho veramente pochissime speranze ma non perché eh cioè non per altro ma per quello che ci ha fatto vedere cioè ho veramente poche poche speranze quindi mi aspetto di vedere magari in campo Pulisic a sinistra o che ho fuori al centro e Ciucco Eze a destra è vero magari possiamo pensare che che sia un attacco un pochino leggerino però è anche vero che in questo momento questi hai con Leao e giro fuori perché forse ora ci siamo con il fatto del mercato cioè con tutti i giocatori che ci sono stati che sono arrivati no? Noi acquisti titoli titolari non titolari ci siamo dimenticati l'importanza forse un pochino di quelli che già erano in rosa di quelli che hanno vinto uno scudetto con te di quelli che ti hanno trascinato in semifinale di Champions League e di quelli che sono qua da 3-4 anni e e da 3-4 anni fanno la differenza e parlo di Leao, Giroud, di Mike, di Tomori stesso, di Teo cioè sono giocatori che anche se Teo ovviamente non ha fatto la prima parte di stagione abbastanza imbarazzante però comunque sono dei giocatori che hanno fatto comunque la storia del recente negli ultimi anni e forse ci siamo un pochino dimenticati l'importanza di questi giocatori con il mercato che comunque è stato un mercato importante che ha portato nuovi volti però ci ha un pochino fatto nascondere secondo me l'importanza dei senatori per virgolette passato in il termine. Che per forza le cose mancheranno chi per qualifica chi per infortunio dobbiamo prepararla bene abbiamo dieci giorni per preparare la Fiorentina bisogna prepararla bene anche perché ultimamente con Italiano non è andata benissimo né a Firenze né a Spezia quindi bisogna preparare bene una partita con un allenatore che ha già fatto vedere che ci conosce sa già come giocarci contro. Detto ciò l'attacco è più o meno chiamato a Gazzetta ha fatto questo pezzo un po' devo essere onesto un po' inspiegabile cioè i dimenticati ad lì il regista che non dirige più Pellegrino Romero incognite Milan Pellegrino ha fatto 45 minuti poi si è fatto male Romero è il numero 23 24 della rosa cioè stiamo parlando comunque di giocatori molto marginali al massimo si può fare un discorso su Adli questo sì perché Adli comunque nell'ultima parte di questa di questa di questa annata ha riperso considerazione come più o meno. Ragazzi la considerazione non ce l'ha mai avuta ma giocava perché eravano contati sulle dita di una mano e anche meno guardiamoci negli occhi diciamocelo Adli. A Pioli non piace punto stop fine dei discorsi se potesse non lo schiererebbe mai ha dovuto schierare perché doveva schierarlo perché sennò non c'erano i giocatori ha anche fatto bene magari ogni tanto se anche non dico mezzo ricreduto un briciolo ricreduto perché ha detto sai cosa comunque il suo bene o male l'ha fatto lo posso usare perché mi serve poi una volta che non ti serve più smetti di usarlo perché perché non gli piace punto stop. è inutile che ci stupiamo piace a me sì piace a te sì ma piace non da da schierarlo titolarissimo in ammovibile no 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 piace a me piace a te piace a il 95 per cento dei tifosi probabilmente sì piace a Pioli e no ed è Pioli che decide chi mettere in campo e chi no è così ragazzi mettiamocela via basta ed è così da un anno e mezzo se non più. No vabbè per questo credo che sia abbastanza lampante se no un giocatore non passa un'intera stagione seduto in panchina e adesso l'aveva ricominciata seduto in panchina e adesso è ritornato seduto in panchina. da quando il Milan è tornato ad avere qualche rotazione in più a metà campo evidentemente è sempre stato valutato quinta stessa scelta del nostro centro campo perché sono andato a vedermi un po' il suo minutaggio al ritorno dei dei vari cronici anche lo stesso Loptus Cic eccetera. non stiamo parlando di un campione epocale assolutamente no non stiamo parlando del salvatore della patria assolutamente no stiamo parlando di un giocatore che probabilmente in rotazione ti può dare una mano in più. ti può dare una mano ti può dare anche un'alternativa perché di giocatori così con quella costruzione non ne hai in questo momento perché Benasser non c'è. Sì ti potrebbe anche far cambiare partita in corso cioè cambiare proprio approccio della partita inizi in un modo senza Adli finisci in un altro con Adli proprio come tipo di partita che prepari e che fai. o viceversa inizi con Adli in un modo e poi togli Adli e la partita va in un altro modo cioè è un'alternativa anche tattica. Ci interessa? A noi sì. A Pioli evidentemente no. Basta cioè continuare a parlarne ma perché? E' un giocatore del 1000. Sì è perché c'è la sosta probabilmente. Ok però è così cioè è così basta. Vabbè vedremo se verrà impiegato in futuro. E' ovvio che quando hai a disposizione magari una partita pesante l'Optus Chic, Musa, Renders giocano loro come giusto che sia. Quando invece c'è bisogno di girare un po' di più in partite magari di mezzo abbiamo visto che comunque c'è la differenza tra chi non gioca al suo posto e lui stesso. Non è che sia questa tanto meglio. Ecco non so neanche se sta giocando qualcuno che è decisamente meglio. Ma vabbè dai andiamo avanti. vorrevo fare la seconda parte invece sulla questione Zlatan perché sempre di più si si va configurando ovviamente il ritorno di Zlatan ormai è diciamo cosa fatta. Tornerà e verrà annunciato settimana prossima però sembra non avere almeno al momento ruoli precisi nell'organigramma cioè non gli verrà data una nomina non gli verrà data diciamo così un'etichetta per la quale magari può anche di conseguenza prendersi delle deleghe. Perché perché ha che so direttore sportivo consegue il fatto che tu fai quel determinato tipo di lavoro e quindi determinati tipo di scelte ricadono su di te. Io da un lato mi sta anche bene ed è un lato che vale il 30 per cento. è un piccolo lato è un catteto è un trapezio è un lato più corto diciamo la base minore del trapezio. Allora mi sta bene che non magari non venga inquadrato perché viene presa un pochino più a 360 gradi e soprattutto risponde direttamente al proprietario del Milan. Quindi ha margini di manovra ampi e libertà nel farlo perché risponde direttamente al proprietario. Ora questo però in realtà è anche il problema stesso cioè rispondere direttamente al proprietario questo implica che quelli che in questo momento ci sono hanno dei poteri in sé che già esercitano determinati tipi di ruoli e entra un uomo che non è al loro interno che dovrebbe operare togliendo parte magari di quella di quelle deleghe che hanno già Ho già sentito. un po' di attriti un po' di anche perché non è che entra un lord della camera dei deputati inglese entra Zlatan con tutto il suo carico di energia chiamiamola così. Sì a me sarebbe piaciuto più un ruolo definito magari anche un ruolo alto ma definito perché è giusto cioè perché se esistono delle gerarchie e si inseriscono delle persone nelle gerarchie poi vanno rispettate certe gerarchie e certi poteri nei limiti senza mai entrare in conflitto con l'area la sfera dell'altro no cosa che magari in passato era successa così è un mondo di zone grigie cioè è veramente un mondo di zone grigie perché poi interviene Ivra e può farlo perché non può farlo perché no cioè diventa difficile anche capire fin dove può spingersi fino a voi direte tu dirai vabbè ma lo sapranno loro sì va bene però poi è un attimo sforare senza magari rendersene conto un attimo andare oltre un attimo magari non spingersi fino a tot perché pensi che il tuo ruolo invece sia un po' più limitato un po' diverso cioè è difficile così ma ma guarda a me può star bene sì a me non troppo perché queste cose un po' un po' messe così non mi fanno mai pazzire a me piace quando c'è ordine decisione e struttura allora io credo che insomma facciamo due punti fermi da un lato ci sono stati vari incontri c'è una settimana intera praticamente di legali che lavorano al contratto quindi credo che siano andati definendosi in gran parte dei compiti delle sfere di influenza questo poi non mette a riparo nel caso ad altre situazioni come abbiamo visto nel nostro recentissimo passato per sgomberare il campo lo ripeto per la decima volta perché poi magari sembra che non ci piace troppo che torni in zlatan assolutamente a me sì assolutamente non vedo l'ora cioè che torni anche adesso gira l'angolo prende la macchina e arriva a milanello barra casa milan assolutamente sì cioè lui deve tornare per forza perché il milan si è dimostrato essere mancante di una figura vera di campo di sport e di calcio quindi porto alla casa subito mi spero perché questa è una speranza visto che stiamo parlando di in questo momento di qualcosa che ancora non abbiamo visto spero che tutto sia definito chiaro senza zone d'ombra senza la possibilità che ci siano così veti vocine vocette perché le abbiamo già viste nel recente passato per questo un po' rimango sul chi va là siccome le abbiamo già viste queste situazioni al milan un po' di mezzo dove ci sono un po' di anime diverse invece no siccome la società va avanti se ha un'anima unica e compatta ecco non voglio vedere anime diverse perché se iniziamo a vedere anche anime diverse arrivederci questa è l'unica speranza l'unica cosa che dico è avendolo già visto in passato spero di non vederlo in futuro tutto qua perché siccome Zlatan entra in un modo un po' poco ortodosso poco diciamo così che abbiamo visto spesso perché da quando vediamo una figura del genere in generale si vede molto 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 poco nel mondo del calcio una figura del genere ora spero che sia stato fatto tutto col bilancino e che tutti siano felici e contenti e d'accordo perché se no vabbè no speriamo bene siamo positivi dai sì 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 ma io sono molto molto felice che torni Zlatan serve è necessario l'esperienza sta mancando cioè l'esperienza manca e si sta vedendo ok perché che manchi esperienza in questo settore da parte di parte della dirigenza è palese e si sta vedendo questa cosa si sta vedendo è palese anche questo quindi sono molto contento che arrivi una figura come Ibra che come dico sempre ha affrontato tre decadi due decadi e mezzo non so bene quante ha affrontato mille momenti diversi del calcio mille società diverse tanti paesi diversi tante culture diverse tante personalità diverse sia di allenatori che di dirigenti che di agenti ti direi quindi ha veramente un bagaglio personale più che professionale che poi diventa professionale perché ha fatto il calciatore veramente veramente importante quindi sono contento che torni spero lo faccia con con tutto ben strutturato organizzato ed è lineato siamo in chiusura Henry noi ci ritroviamo tra poco per Piamina delle 11 il launch delle 13 e il talk delle 16 grazie grazie a te grazie a tutti buona giornata buona giornata anche da parte mia ci ritroviamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti